Icomass, dal 1958 interpretiamo l'eccellenza nella maglieria italiana. Selezioniamo nel mondo i filati più pregiati per produrre capi classici e iconici di infinita morbidezza. In puro cashmere, cammello e yak, a prezzi di fabbrica. Icomass, un sapere prezioso, un'anima artigiana. Approfittate degli sconti del 20% sul prezzo di fabbrica. Grazie a tutti.